Il leader del movimento punta infatti il dito sui circa 2 miliardi di estragettito accantonati dal governo tra i giorni più frenetici di partenza e rientro dalle vacanze. Un tesoretto accumulato grazie all'IVA e alle accise sul carburante che, se calcolato da inizio anno, viene stimato intorno ai 4 miliardi di euro. Conte lo definisce un bottino sottratto indebitamente ai cittadini che va restituito e siccome si avvicina alla sessione di manovra, manda un avvertimento politico alla leader del centrodestra non provare a trincerarti dietro la necessità di utilizzare questo estragettito per il taglio del cuneo fiscale. Quest'ultima è una misura già prevista che va resa strutturale e che non può essere finanziata con questa appropriazione indebita fatta sulla pelle dei cittadini. Mantenere, se possibile, ampliare il taglio del cuneo per le retribuzioni fino a 35 mila euro sarà uno degli obiettivi della seconda legge di bilancio dell'esecutivo Meloni. Dopo un primo chiarimento alla ripresa dei lavori ci sarà un nuovo confronto sulle modifiche che Forza Italia vuole apportare al decreto in Parlamento. Deducibilità, una tantum, esclusione delle piccole banche dal provvedimento. I punti cruciali ribaditi da Tajani che ha assicurato che non c'è stata alcuna pressione dei figli di Silvio Berlusconi su un provvedimento che riguarderà anche Mediolano.